Buona serata e benvenuti a questa nuova edizione di Telegram. Questa sera ci concentreremo sul tema della grande Firenze, della città metropolitana, dell'idea di sviluppo di questa area che sta affrontando questa sfida, quella di ampliare i confini comunali. Ne parleremo con il sindaco di Campi Bisenza, Emiliano Fossi, che saluto e ringrazio. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera al consigliere di Firenze di parte a sinistra, Tommaso Grassi. Buonasera, buonasera a tutti. Parleremo di questo, del tema di cui dicevo in apertura. Proprio volevo farvi una domanda perché nel weekend, o meglio domenica, c'è stato un referendum in Ungheria molto importante in cui sostanzialmente si è votato sulla proposta europea, sulla legge europea che sancisce in qualche modo le quote di migranti per ogni paese. Intorno al 43,3% si è fermato il quorum, se non sbaglio. In Ungheria non raggiungendo appunto il quorum, quindi di fatto non viene contrastata questa legge, ma il segnale forte è arrivato. Un po' tutti l'indomani hanno messo il cappello su questo voto, hanno tirato forse un sospiro di sollievo. Chi aveva paura che il quorum venisse raggiunto, Orban ha comunque detto un segnale forte nei confronti dell'Europa. Volevo sapere il vostro parere, Fossi e poi grazie. Io da un lato registro la soddisfazione, perché chiaramente la posizione presa da alcuni paesi dell'est Europa, in particolar modo l'Ungheria e la Polonia, sia nei confronti della questione dei migranti, ma anche nei confronti dell'Europa stessa, c'è una posizione, dal punto di vista, inaccettabile, perché prima si prendono i benefici sotto forma di finanziamento e poi quando le cose cominciano ad andare un pochino meglio e si riscontrano, ma anche poi i momenti in cui ci si deve dimostrare solidali e quindi davvero parte dell'Unione Europea ci se ne scorda e si prendono strade diverse. Quindi in particolar modo il governo Orban si è caratterizzato per essere fortemente caratterizzato da benature xenofobe e razziste, oserei dire fasciste, e questo referendum credo sia una sconfitta fortissima, perché non aver raggiunto il quorum su un tema sul quale il governo si è caratterizzato in maniera forte, netta e di rottura forte con l'Europa, credo sia una grande sconfitta. Al tempo stesso si deve registrare che dentro quel 43%, quasi totalmente, 98% si sono espressi a favore della posizione espressa dal governo, quindi questo elemento comunque deve rimanere non sullo sfondo ma ben presente, perché è un elemento assolutamente inquietante, è la dimostrazione di un sentimento forte che c'è tra i cittadini e non soltanto di quelle zone dell'Europa, ma è presente anche nella parte più centrale, nella parte che ha sempre rappresentato a vanguardia. D'altronde noi veniamo da un voto, sempre sul referendum, sulla Brexit, che non aveva le stesse caratteristiche, ma insomma è riferibile. E anche lì stile, modalità e profili istituzionali diversi, Cameron si è dimesso dopo la sconfitta epocale e non credo che Orban si diventerà. Non credo nemmeno ci abbia pensato, grazie. No, un pochino quello diceva anche il sindaco Fossi, è andata bene così, nel senso che per fortuna non si è raggiunto il quorum e quindi diciamo che il referendum non è stato valido, peraltro che si opponeva alla linea Orban e quindi a una posizione xenofoba, nazifascista praticamente, in cui non c'è il ricetto completo del differente, della persona che viene da un altro paese, senza capire quindi che se ne esce solo con l'aiuto di tutti. Nel momento in cui le quote cercano di ridividere in qualche maniera il peso che viene dal mondo in guerra o da dove ci sono situazioni socio-politiche non più accettabili per le popolazioni, vuol dire proprio dividere e suddividere il problema, se no d'altra parte Grecia e Italia ne sono la dimostrazione con l'arrivo continuo, con gli sbarchi continui e ovvio che l'Europa se ancora deve esistere come noi crediamo, deve esistere anche con i bene e con i pro e i contro, nel senso che un paese non può solo prendere i finanziamenti e poi dopo scomparire. Dall'altra è ovvio che la posizione politica di un 98% del 43%, quindi di un 40% in quella popolazione è andata a votare e ha votato per una posizione di questo tipo, sicuramente preoccupa perché è ovvio che non è una cosa lontana, così anni luce anche dalla condizione sempre più politica e ci riguarda anche sempre più da vicino. Volevo chiedervi su questo, per scendere poi nelle nostre realtà comunali e vicine, insomma la gestione poi pratica di queste persone sui territori. Renzi qualche tempo fa ha detto se l'Europa non c'è faremo da soli, ma faremo da soli quando ci sono numeri così importanti è molto molto complicato, vorrebbe da chiedersi in che modo già qualcuno ha aperto la possibilità ad esempio delle caserme di smesse, se ne è parlato spesso, ma sembra a un certo punto diventare necessario trovare degli spazi in più nelle città perché non c'è quel meccanismo di turnover che abbiamo detto spesso, per cui per capire se una persona può avere un nuovo status di rifugiato ci vogliono ben più di 12 mesi e questo automaticamente genera in qualche modo dei sovraccarichi. Le chiedo a lei Fossi, anche perché nel suo comune, se non sbaglio il centro-destra, insomma qualche, su questo insomma si è espresso dicendo che ci sono problemi nella gestione dei migranti, volevo sapere da parte sua qual è la realtà vostra. Problemi sul territorio? No, noi abbiamo circa 80 migranti sul territorio che non hanno dato nessun tipo di problema di nessun genere, nel senso c'è stata una gestione ottima sia dai soggetti che seguono questo percorso e quindi ad oggi la presenza è quasi impercettibile, nel senso nonostante il numero sia un numero abbastanza importante, ci sono comuni che hanno numeri ancora più grandi, io credo che l'area della città metropolitana fiorentina, la città metropolitana fiorentina e la provincia fiorentina abbia dato una buona risposta, seguendo il modello della regione toscana, cioè della presenza diffusa sul territorio, questo anche grazie a una bella collaborazione tra le istituzioni, i comuni, la città metropolitana, la regione e la prefettura, quindi io credo che si debba seguire questa linea. È chiaro che quello che dice Renzi sia difficilmente realizzabile, perché fare da soli significa ritrovarsi ancora più in difficoltà rispetto a quello che siamo trovati fino ad oggi, può servire come provocazione rispetto all'Europa per farsi carico di un problema, non lasciare gli stati isolati e poi di conseguenza ritrovarsi in vari comuni con i problemi sul proprio territorio, però non si sfugge da una politica europea. La cosa che comunque dobbiamo mettere in conto è che il modello toscano della diffusione della presenza sui territori di queste persone è un modello importante che va preservato, non so fino a quando potrà reggere, questo lo dico con molta franchezza, e un pochino tutto dobbiamo mettere in conto anche la presenza possibile, se i flussi continueranno, e anche qui ci sono momenti di numeri più bassi, momenti in cui i numeri si fanno più alti, dobbiamo prepararci anche a soluzioni alternative, e in questo caso sarebbe ospecabile farci trovare pronti, non la soluzione d'imperio della prefettura che prende un capannone e allestisce una tendopolo o qualcosa del genere, ma invece individuare delle soluzioni anche adeguate per sviluppare progetti anche di inserimento, in modo tale che si inseriscano nel migliore possibile e i cittadini capiscano, a gran parte, perché poi una parte riottosa ci sarà sempre, purtroppo capiscano che questo è il mondo, e rispetto a come vanno le cose bisogna farsi trovare pronti. Grazie, su questo, anche perché la Regione Toscana, da una parte si diceva che qualcuno la valuta l'ipotesi, anche delle tendopoli, insomma qualcuno l'ha anche proposta, non soltanto i più critici nei confronti della gestione attuale, però dall'altra parte la Regione Toscana ha anche avviato il percorso per l'accoglienza nelle case private, anche quella può essere una soluzione che sembra difficile. Difficile da concretizzarsi, i numeri già, nonostante siano pompati dal punto di vista mediatico, dal punto di vista del risultato, ovviamente ringraziamento alle famiglie che hanno fatto questa sperimentazione, questa nuova modalità, però è ovvio che non si risolve con poche decine di persone accolte. Due questioni, una sulla posizione del governo, ho paura di un'Europa che ci risponda alla provocazione, spero sia come tale, del Presidente del Consiglio Renzi, dicendo bene, vedete, allora fate da soli, se siete così capaci di farlo da soli, anche perché vorrebbe dire, in un sistema che deve essere gestito come vasi comunicanti, tappare gli ultimi vasi e lasciare tutta l'acqua inserita nel primo vaso, e quindi vuol dire farlo traboccare, e quindi vuol dire far fallire e far saltare il meccanismo e il sistema italiano, perché gli arrivi continueranno ad arrivare, e le persone dai paesi, e purtroppo se non ci sarà quel turnover minimo necessario, e che già ora è sottodimensionato rispetto alle previsioni, rispetto agli accordi, rispetto a quello che sarebbe necessario, è ovvio che i paesi d'arrivo, nel caso più specifico Italia e Grecia, in maniera particolare, vanno al collasso, quindi per non arrivare a questa situazione, bisogna avere la collaborazione dell'Europa, bisogna andare in Europa senza provocazioni, ma bisogna andare con il pugno fermo, per dire che da soli non si risolve, che non è un problema dell'Italia, non è un problema della Grecia, non è un problema solo dei paesi mediterranei. Il fatto che Merkel e l'Olanda abbiano vicine delle elezioni, è come dire, rema contro, no? Ma ormai sembra paradossale dirlo in Italia, dove sostanzialmente ormai le promesse si fanno in base alle elezioni politiche e ai referendum, per rimanere sull'attualità, penso che in questo periodo ormai in Italia potrà essere chiesto tutto, e promesso tutto dal governo Renzi, però almeno fino al 4 di dicembre, poi ovviamente c'è quei 20 giorni in cui ricambierà il DEF, ricambierà tutto e torneremo tutto indietro e avremo il reale situazione del paese. Credo che non si possa e non si debba fare, neppure in Germania, neppure in Francia, negli altri paesi europei, i conti solamente e esclusivamente con le elezioni, credo che invece bisogna avere in qualche maniera e dimostrare se questa Europa è adulta, capace di rispondere non solo all'euro, ma insomma alla questione economica, ma anche ad altre questioni più complessive. Sulla opzione di utilizzare le caserme, credo che sia una soluzione che purtroppo ci stiamo avvicinando a gran passi sempre di più, perché i numeri portano a questo, però sarà il fallimento sia del modello toscano, sia del modello di accoglienza, perché la risposta di mettere le persone tutte in una caserma, tutte insieme, vuol dire sostanzialmente far partire dei focolai, dove sicuramente sia l'opposizione ai cittadini, che dovrebbero essere, devono essere informati preventivamente. Il caso di qualche settimana fa a Peretola, nella dimostrazione, io credo che tanta parte della popolazione che ha protestato e continua a protestare, avesse problemi sulla metodologia utilizzata dalla Prefettura. Peraltro affidata ad una cooperativa che una settimana prima avevamo scoperto essere sotto indagine o comunque in maniera particolare attenzionata dall'autorità giudiziaria per come svolgeva l'attività. Insomma, forse proprio lì l'esempio peggiore di cosa non dovrebbe essere fatto. Chiarezza e trasparenza. Sulle caserme immagino che forse sia d'accordo anche lui con quello che diceva Grassi, sostanzialmente. Sì, la vedo come Grassi. Al tempo stesso, come ho detto prima, io credo che se le cose vanno avanti così risulta sempre più difficile affrontare i flussi che arrivano di persone e quindi in quel caso noi dobbiamo farci trovare pronti eventualmente anche a non superare ma a porre elementi di discontinuità rispetto al sistema del modello diffuso e individuare anche delle realtà che non siano magari le caserme ma siano altre situazioni dove si accolgono numeri più importanti ma dove però si garantiscono alcune condizioni di sicurezza e con progetti che vanno verso un'integrazione o comunque una convivenza forte nei confronti delle comunità a cui vengono accolte perché poi alla fine il problema ce lo troviamo. Potrebbero essere utilizzate le caserme per questo, per progetti di più lungo raggio su quella che è la risposta di una popolazione e di una crisi economica che arriva sul territorio quindi la risposta a noi vuol dire non diamo le caserme per l'accoglienza e vendiamole come sostanzialmente sta facendo non solo il Comune di Firenze ora il Comune Campi per fortuna non c'ha caserme smesse e quindi per fortuna abbiamo un ex caserma dei Carabinieri ma che ancora non è in dotazione del patrimonio comunale quindi diciamo per il resto purtroppo quello che succede a Scandici che succede a Firenze che succede in tante parti dei comuni è purtroppo di vedere una vendita delle caserme per altro tipo di speculazione quindi insomma credo che da questo punto di vista progetti di più lungo raggio andrebbero fatti sulle caserme dal pubblico allora voglio portarvi in su iniziamo insomma con questo discorso della grande Firenze ma lo facciamo attraverso due, tre punti particolari prendiamo subito il toro per le corna il primo che volevo chiedervi è sul discorso dell'aeroporto perché in questo qualche giorno fa i sindaci di Sesto Fiorentino Calenzano Poggio Accaiano e Carmignano hanno scritto al Ministero che rende sostanzialmente sia rispettato la sentenza del Tar al Ministero dell'Ambiente per quello che riguarda la via è stato ritiato il sindaco di Prato Matteo Biffoni ma anche a lei è arrivata qualche critica fossi per non aver partecipato a questo tavolo ci spiega le motivazioni? ringrazio per i qualche sono stato diplomato ciao allora vista la presenza se stavo Biffoni sarebbe stato allora intanto io credo che sia stato un percorso importante quello che hanno fatto nei mesi scorsi i comuni insieme cioè quello di creare un tavolo politico tecnico istituzionale tecnico che portasse a un lavoro congiunto che poi dei vari comuni che poi si è trasformato anche in un percorso singolo di ogni comune perché poi alla fine quel tavolo lì ha prodotto un lavoro che poi si è trasformato nelle osservazioni e nel parere che vari comuni hanno dato in fase di via alla regione e al ministero da quel lavoro viene fuori anche buona parte delle osservazioni che il comune di Campi ha fatto sulla previsione del potenziamento dello scalo di Peretola e quindi dove ci sono osservazioni che hanno a che fare con problemi individuati riguardo all'aspetto urbano urbanistica all'assetto idrogeologico al tema della viabilità al tema dell'impatto ambientale quindi il tema delle rotte insomma lì c'è tutto e poi questo ha portato al parere del comune di Campi che è contrario rispetto al potenziamento dello scalo di Peretola questo è un patrimonio importantissimo perché è stato fatto un percorso congiunto dei vari comuni coinvolti che poi ognuno ha definato attraverso le proprie sensibilità e la visione rispetto all'opera l'ha disconosciuta due giorni dopo anche Firenze era nel tavolo sì ma poi l'ha disconosciuta immediatamente Firenze ha fatto la sua scelta e ha preso la sua posizione legittimamente i comuni di Campi hanno preso una e l'altra dovevate lavorare tutti insieme detto questo però io come dire rivendico il lavoro di quel tavolo perché quel tavolo è stato un tavolo importante che ha tenuto insieme anche diversità fatto questo poi c'è stato il deliberato del Tar importante sull'opera che è il prodotto del lavoro che avevano fatto alcune associazioni ambientaliste e i comitati sulla base di quello poi cosa è successo è successo che per esempio i comitati hanno presentato ai vari comuni dell'area il risultato del lavoro del deliberato del Tar e hanno chiesto ai vari consigli comunali di esprimersi in relazione a quello chiedendo un voto oppure chiedendo al consigli comunale di farsi carico di quello che era stato il percorso esatto nel nostro comune è stato tradotto in un documento presentato dal movimento 5 Stelle che è partito per primo diciamo così il documento è stato emendato dalla maggioranza ma di fatto non abbiamo votato un documento dove si dice che bisogna tenere conto di quello dettare addetto e che di questo se ne deve fare carico anche la regione e si richiama un ruolo dei comuni in questo ambito e poi invitiamo la regione il presidente della regione Rossi a non fare ricorso al consiglio di Stato questo è quello che ha detto il comune di Campi attraverso il consiglio comunale esatto attraverso il consiglio comunale poi c'è stata l'iniziativa che hanno preso alcuni comuni della della zona diciamo della piana tra Firenze e Prato e quindi in parte del modo il comune di Sesto il comune di Calenzano il comune di Carmignano e di Poggio Arcaiano che dal punto di vista loro legittimamente nel senso nessuno critica la scelta però la si può non condividere perché dal mio punto di vista quello di diffidare un altro ente un'altra istituzione a proseguire con la procedura di via e richiedendo che sia dato esito negativo secondo me è un'ingerenza e secondo me è anche priva di ogni tipo di conseguenza positiva perché io credo che l'intento fosse quello positivo cioè di dire visto che c'è una posizione contraria alla realizzazione dell'opera che abbiamo anche noi però mi sembrava una scelta anche sterile come prodotto finale e come dire la posizione dei comuni la posizione delle varie istituzioni coinvolte e anche dei molti comuni hanno firmato quella lettera è stata espressa nelle loro osservazioni e nel parere quindi questo per questo è la motivazione torniamo a riparlarne Grassi mi vuole dare il titolo in un minuto poi dopo le do la parola dopo velocemente nel senso di dire che il ragionamento del sindaco Fossi tornerebbe se si fosse a giocare una partita in cui tutti giocano con le stesse armi e legittimamente ognuno facesse il proprio ruolo qui siamo di fronte ad una procedura che dall'inizio alla fine è portata avanti del presidente Carrai di ADF e poi a Toscana Aeroporti appoggiato ovviamente a livello governativo da prima dal sindaco Renzi poi dal ministro Lupi e poi con la soluzione di continuità del presidente del consiglio dei ministri sempre Renzi credo che ora a questo punto non siamo in una posizione perché il sindaco Fossi giocando ovviamente con le parole giustamente ha detto noi abbiamo dato parere contrario ecco quella parere contrario del comune di Campio come il comune di Sesto e il comune di Firenze ovviamente favorevole perché non auspicheremo ma purtroppo non siamo realizzabili che Nardella cambia idea e soprattutto vada contro al diktat della coppia Carrai-Renzi credo che quel parere anzi sono sicuro che quel parere come il parere della regione in conferenza di servizi adesso in fase di via e poi in tutte le fasi non varrà nulla perché la procedura nazionale bypasserà tutte le amministrazioni locali allora io credo che abbiano fatto benissimo i sindaci dei quattro comuni ad alzare il tiro e a dire che le popolazioni cittadinanza di Poggio e Caiano ma diciamo della Piana e della città di Firenze non possono essere bypassate con pezzi di carta e quindi il fronte anche e soprattutto anche una sentenza al Tar chiara come quella dell'8 di agosto che ha dato sulla questione del PIT ha messo dei paletti che non possono essere driblati come anche autorevoli avvocati che però sono anche avvocati dell'università che dovrebbe essere in qualche maniera istituzione ma allo stesso tempo sono anche gli avvocati di Toscana Aroporti vorrebbero far passare come se fosse carta straccia ecco le sentenze e soprattutto la volontà e le intenzioni politiche dei sindaci del territorio non possono essere bypassate c'è da chiedersi a questo punto se questo questo tavolo di quattro sindaci insomma verrà ascoltato più di quello che può essere il parere del singolo comune così me lo dite tra cinque minuti ci fermiamo un attimo e poi torniamo in studio e poi torniamo in studio grazie a tutti ben tornati in studio allora con Tommaso Grassi Emiliano Fossi stiamo parlando dell'aeroporto la domanda che volevo farle è quella più o meno che diceva Grassi insomma sulla valenza che avrà questo tavolo o no lei ha già risposto che se non lei di pratica ne avrà poca volevo però anche citarle questo è un commento del sindaco di Calenzana del subito che ha detto l'urgenza di questa lettera nasce dalle pressioni che avvertiamo quasi quotidianamente sulla stampa è inaccettabile che si proceda come se la sentenza non fosse mai stata emanata le vede anche lei queste pressioni da parte della stampa io come dire io ho a cuore la correttezza dei rapporti istituzionali anche quando la si pensa diversamente quindi francamente sto poco dietro a quello che si dice sulla stampa a quello che si non per discreditare quindi va bene aver fatto la procedura di opera nazionale che bypassa completamente tutti io dico che perché bocciato il pit la regione ha detto non conta nulla io sto dietro io sto dietro al rapporto alla correttezza del rapporto istituzionale e all'interno della correttezza e dei percorsi che il rapporto istituzionale mi permette io esprimo il mio parere e siccome noi abbiamo espresso attraverso una serie di osservazioni parere contare all'opera quello è l'elemento che conta ma non conta nulla però una iniziativa di questo genere dal mio punto di vista che rispetto perché è una scelta legittima che hanno fatto quattro sindaci quindi non mi permetto di entrare in critica con i sindaci tantomeno alcuni sono anche sindaci del mio partito ma non per codardia ma perché ognuno legittimamente fa ciò che vuole io credo sia un'iniziativa che poi alla fine produrrà poco perché è un'iniziativa che non ha efficacia e conseguenze reali e oltremodo secondo me rischia di creare un precedente pericoloso o non per volontà per esempio del sottoscritto ma perché rischia di rompere quel tavolo che aveva comunque portato a un lavoro congiunto da parte delle varie amministrazioni quindi da questo punto di vista indebolendo il fronte il percorso che anche è contrario a quello il problema è che il comune di Firenze quel percorso l'ha abbandonato cioè non l'ha abbandonato l'ha negato l'ha cancellato peraltro sono tanti il comune di Firenze no ho capito no ho capito no certo quindi io fu principalmente ciò che dice sicuramente però no ma te dai la colpa dai la colpa agli altri quattro sindaci ti ha permesso in dubbio da aver sciupato l'idiglio tra voi il comune di Firenze non l'ha neppure mandata al ministero né alla regione va bene che c'entra ma a quel tavolo lì a quel tavolo lì ci abbiamo mandato una persona non è dell'urbanista non è direttore generale a livello tecnico io ho un fuoco sindaco di Firenze te ne parli sindaco di Firenze e giustamente fai il tuo lavoro giustamente e hai a cuore principalmente la posizione del comune di Firenze ma detto questo a quel tavolo contrario alla posizione del comune di Firenze interessi diciamo così principalmente quindi vai anche a cuore quello che fa il comune di Firenze coincide con la gran parte della popolazione di Campi di Sesto di Calenzano e tutto perché la domanda sarebbe se la popolazione di Campi è d'accordo con la tua posizione a quel tavolo non la mettere sulla polemia di che sa voglio dire ma io ma sa ma ti consiglio non ho quanti incontri pubblici ho fatto sull'aeroporto e su altre opere pensi che io abbia paura a confrontarmi con la cittadinanza pensi che non sappia che lo dice la cittadinanza e pensi che la cittadinanza decide se il suo sindaco ha fatto gli interessi alla cittadinanza più o meno se ha firmato o meno una lettera in quel modo o preme più la serietà di un percorso istituzionale e politico il sindaco di Prato sta facendo il sindaco in maniera corretta e secondo me lineare sulle sue posizioni quindi qual è la fine sindaco di Prato quindi io quello che dico al di là chiudo davvero per entrare in un conto ma semplicemente per rispondere che il Comune di Firenze avrà fatto la sua scelta ma a quel tavolo non c'erano soltanto il Comune di Firenze c'erano tutta una serie di comuni e di sindaci Campi Sesto Calenzano Signa Lastra Poggiaccaiano Prato Carmignano che avevano fatto un percorso insieme avevano prodotto un lavoro comune a un certo punto con una scelta quel tavolo rischia di essere inclinato diciamo il mio ragionamento era su chi l'ha inclinato il soggetto l'ha inclinato principalmente è stato non ha riconosciuto il lavoro di quel tavolo e soprattutto il problema è che noi abbiamo anche posto in maniera chiara quello che è il fatto di una correttezza di vedere regione a Toscana Aeroporti che ancora il Presidente dovrebbe essere legato ai soci pubblici o almeno tali e i membri del governo esponenti autorevoli del governo nazionale che dichiarano che la sentenza del Tar può essere tranquillamente driblata perché non c'entra nulla parlava della variante al pit e non parlava della procedura innovativa che praticamente bypassa tutte le amministrazioni il nostro punto è non si può fare un'opera contro il volere della cittadinanza e le elezioni di Sesto permette il Sindaco Fossi di dirlo lo ammettono lo evidenzano lo rendono palese a tutti gli effetti c'era un Sindaco ma sono strettamente connessi anche le due visto che ormai quell'area lì tra il quartiere 5 diciamo di Firenze la parte di Peretola Caracchi Brozzi insieme a Campi Sesto e Calenzano sta diventando già ormai purtroppo dalla pianificazione di qualche anno fa la discarica su cui poterci buttare tutte le opere che in qualche maniera danno noia al resto quindi aeroporto la questione dell'inceneritore e tutti questi aspetti terza orsia dell'autostrada forse volevi dire qualcosa almeno poi andiamo avanti che ho altri temi ma rispetto a questa cosa io non so o meglio io ho una mia idea su come mai l'IPD è persa Sesto ce l'ho non credo sia soltanto riconducibile a questo tipo di questioni che sollevava ora Tommaso Grassi è chiaro questo elemento qui hanno avuto questi elementi hanno avuto una rilevanza nella scelta in particolar modo la questione del termovalorizzatore che è entrata a piedi pari nella discussione elettorale io credo che al di là di delinare come ci pare a noi la questione Sesto Fiorentino che è molto semplice e molto facile perché rappresenta uno sparte acqua importante non c'è dubbio penso che bisogna cercare di provare a capire come rispetto a alcune opere si riesce ad essere veramente incisivi e a portare verso un obiettivo che è quello che auspiciamo non credo che attraverso iniziative di questo genere si possa realizzare detto molto chiaramente il tema del sovraccarico delle infrastrutture in un fazzoletto di terra è un tema che anche noi abbiamo il problema di Firenze è la fatta leone sugli altri perché il fatto è il governo con i comuni di Firenze che sono gli unici due soggetti e regione in parte che fa un po' il pesce in barile e il presidente Rossi sono gli unici d'accordo su fare l'aeroporto perché la dettora Campi ha dato parere contrario stanno sostanzialmente usando cambiando leggi cambiando regolamenti interpretando sentenze portando avanti come un treno il progetto allora la domanda è facendo i corretti e facendo sostanzialmente dando solo il parere che poi non serva a nulla perché è obbligatorio ma non vincolante quindi poi chi tocca scegliere sono altri soggetti non si riesce a far bloccare un'opera che non è voluta dal territorio noi non accettiamo fino all'ultimo giorno ci proveremo a bloccare le opere che non sono volute dal territorio e sono volute solamente da chiamiamo una triangolazione pubblica però siccome non se ne esce si infatti se ne è andata molte volte questa discussione su questa cosa qui io credo che non la si affronti guardando a chi è più brello bravo e alla posizione più dura su questa posizione lo si fa attraverso le scelte per esempio il potenziamento dello scalo di Peretola anche delle conseguenze urbanistiche giusto? e le conseguenze urbanistiche ricadono in particolar modo su due comuni Comune di Firenze e Comune di Sesto quello credo sia un'arma importante è verbale la conferenza dei servizi bypasserà la variante urbanistica e sarai obbligato come sindaco di Campi io mi auguro di no a doverlo semplicemente ratificare la differenza tra l'approvazione che mantiene all'ente locale la possibilità di decidere sì o no o la ratifica che sarà quello che verrà fuori dalla conferenza di servizi nazionale successiva alla via nazionale sarà quella di poter obbligare di poter far cadere l'ampliamento dell'aeroporto sui comuni senza la possibilità di dire sì o no perché se ci fosse quella possibilità forse avresti qualche ragione in più in questa maniera non puoi difenderti dalle varianti urbanistiche che sia a Sesto che a Campi che anche a Firenze per quel piccolo pezzettino che riguarda l'albergo e tutto sarà in qualche maniera gettato dall'altro vedremo su questo vedremo volevo chiedervi un'altra cosa perché qualche magari su questo vi trovo più d'accordo vediamo non lo so perché qualche tempo fa il sindaco Nardella il sindaco di Firenze sostanzialmente anticipando di un paio di giorni ma nemmeno ha rimesso in discussione quella che era il sottoattraversamento della TAV a Firenze che chiaramente avrà delle ricadute e poi anche pochi giorni fa c'è stato l'annuncio da parte dell'amministratore delegato che ha detto sostanzialmente lo poster non si farà questo sembra il quadro che si sta componendo anche se aspettiamo poi da ferro di avere lo Stato il project review sostanzialmente che dovrà arrivare a breve tra pochi giorni questo però inevitabilmente influenzerà anche la gestione dei treni la situazione delle ferrovie in tutta la zona che sta intorno a Firenze lei qualche giorno dopo se non sbaglio insomma intervene subito sui giornali qual è la vostra posizione? io sono molto preoccupato perché se il senso è quello che si percepiva già dalle dichiarazioni di qualche mese fa anche da parte del sindaco e poi dalle voci che arrivano da Roma ultimamente sono molto preoccupato perché nel superamento di una scelta fatta ormai 20 anni fa c'è non soltanto la preoccupazione e non tanto la preoccupazione per la destinazione di quello che era è o sarà o non sarà la stazione Foster posto che anche una volta non viene realizzata la Foster poi bisogna capire cosa viene realizzato lì al posto della Foster e credo non sia banale e credo che non riguardi soltanto il Comune di Firenze anche se da un punto di vista urbanista appunto è collocata nel territorio di Firenze quindi quello è un problema l'altro problema è quello di sotto attraversamento e credo sia un passaggio fondamentale per non soltanto il sistema dell'alta velocità e non perdere punti rispetto per esempio a Bologna ma anche e soprattutto perché realizzare sotto attraversamento e quindi far passare i treni veloci sotto significa liberare i binari di superficie e quindi migliorare i trasporti regionali e quindi migliorare i servizi nei confronti dei pendolari in estrema sintesi mettere in discussione quella scelta lì significa dal mio punto di vista rischiare di pregiudicare non solo un percorso investimenti fatti e scelte importanti perché per realizzare quella roba lì io mi ricordo è stata spostata una scuola sono state spostate abitazioni insomma si è fatto un percorso lungo in più e quindi sono state spese anche risorse e il rischio è che non avendo ben chiaro ad oggi ciò che sta succedendo si rimandi si ne die la scelta e quindi non si rimanga sostanzialmente al palo perché rivedere il progetto con tutti i percorsi poi partiranno via non via eccetera significa non spostarlo di qualche mese ma di qualche anno se non di qualche decennio e quindi le conseguenze sono quelle lì che dicevo prima il rischio è questo e il problema di Firenze poi sul tema delle grandi è proprio questo che si discute si discute si discute per anni e poi alla fine ci si arriva o in ritardo epocale o non ci si arriva per niente inevitabilmente voglio dirlo anche per chi ci ascolta perché noi il nostro titolo è la grande Firenze ma quando parliamo di fisteose ovviamente stiamo parlando della grande Firenze perché ogni scelta infrastrutturale strategia come quella ad esempio del sottoattraversamento ma anche delle tramvie così che insomma interessano in grossa parte i comuni di Firenze inevitabilmente hanno l'eco anche nelle città circostanti grazie su questo noi sull'attuale progetto del sottoattraversamento della stazione Foster siamo sempre stati contrari e rimarremo contrari e siamo ben contenti che si sia aperto in qualche maniera una possibilità di revisione del progetto è ovvio che due punti non eravamo d'accordo visto se era d'accordo era probabile Alessio aveva detto ci aveva visto un barlume un barlume no però su un punto possiamo trovarlo d'accordo nel senso di dire che anche per noi qualsiasi tipo di progetto che deve essere sostitutivo deve non toccare due punti uno il fatto che ci debba essere comunque ferrovie costrette a fare un sistema ferroviario metropolitano che sappia non ragionare solo delle stazioni ferroviarie della città di Firenze ma sappia connettersi anche con gli altri e rispettare il flusso metropolitano e diciamo dei treni regionali dei pendolari tanto puoi capirsi due che Firenze non può essere bypassata perché il rischio delle altre proposte che sono uscite sui giornali da parte di Ferrovia è quello di bypassare Firenze cioè quella di al massimo fare una fermata a Campo di Marte e di fare un tunnel sotto che bypassi completamente la stazione Santa Maria Novella o qualsiasi altra stazione di Firenze questi due punti per noi sono pregiudizialmente non alienabili e non rinunciabili è ovvio che il progetto attuale che prevede la stazione Foster sotto attraversamento è ovviamente inutile dal punto di vista della stazione Foster perché non si capisce come si può connettere con la centralità reale e soprattutto è una cattedrale nel deserto ricordiamoci che 20 anni fa quando è stata studiata è stata studiata un 27 mila metri quadrati di centro commerciale dall'interno l'operazione era farci arrivare i treni era farci fare le attività commerciali andate a Porta Susa a Torino vedete quello che succede le attività commerciali non ci sono la tramvia e c'è solo la tramvia passo uguale e anzi cosa ci verrà al posto della Foster non lo sappiamo nel senso che sicuramente per noi dovrà essere riutilizzata dovrà essere messa in sicurezza anche rispetto perché scavare uno scatolone di 500 metri non era un'idea secondo noi auspicabile è stata realizzata quindi come minimo la sicurezza e purtroppo non è che si può richiudere come si faceva una volta da giovani sulla spiaggia che è fatta la buca ci si metteva sopra noi crediamo che oggi ci sia la possibilità per riprendere tutta quella serie di progetti alternative e ripartire tutti da zero cioè nel momento in cui si dice abbandoniamo il progetto vecchio e possiamo ripartire senza perdere inutili tempi va bene perché comunque sia alcune lavorazioni sulle aree ferroviarie ma per sfortuna ce ne sono da fare abbondanti pensa alla linea lenta pensa a tutta una serie di questioni di elettrificazione credo che ci sia la possibilità per riprendere in primis i progetti che sono stati fatti dall'università di Firenze che prevedevano comunque l'attraversamento la possibilità di separare il flusso dei regionali dei pendolari dal flusso dell'alta velocità ma in superficie questo è possibile farlo ci sono progetti è il momento giusto per mettere tutti intorno al tavolo tutti i soggetti e poter in qualche maniera trovare la soluzione migliore per la città di Firenze dal punto di vista ambientale dal punto di vista trasportistico senza dover tagliare quell'importante fetta che vuol dire tutto il resto della città metropolitana chiarissimo allora siamo in chiusura ne volevo soltanto dirvi anche oggi gli hashtag di uno abbiamo in parte parlato il terzo per chi è riserendato in onda fuoco a mare documentario italiano tra l'altro candidato al miglior film agli Oscar che proprio parla delle tratte dei migranti attraverso il Mediterraneo insomma vabbè chi l'ha visto sicuramente ne avrà apprezzato la qualità stilistica e narrativa il secondo invece hashtag era quello del premio di Valeria Solosina che è stato istituito oggi lo ricorderete la ragazza italiana che perse la vita al Bataclan era un premio importante perché sostanzialmente va proprio nei confronti dell'imprenditoria in modo particolare con uno sguardo all'imprenditoria femminile e a tutte le tesi che escono dall'università i progetti che escono dall'università quindi in questo senso è molto importante il primo hashtag però volevo su questo chiedere un flash a Milano Fossi perché oggi è il compleanno del Movimento 5 Stelle è proprio quello il primo buon compleanno del Movimento 5 Stelle che regalo le farebbe al Movimento 5 Stelle dalla sua nascita dal 2009 in cui nacque ma di recuperare l'ispirazione originaria perché altro è un regalo al Movimento 5 Stelle a chi ci ha creduto fin dall'inizio mi pare che un pochino quell'ispirazione si stia perdendo strada facendo quindi un po' un ritorno all'origine il regalo di Milano Fossi sì è quello che ha detto anche Pizzarotti in questi giorni ma sono uno dei tanti io volevo fare anche un regalo il Movimento 5 Stelle sarebbe troppo facile dire qualche buon amministratore per poter governare le città dove giustamente hanno vinto le elezioni quindi è anche bene che si passi come tutte le forze politiche dovrebbero fare dal saper fare un'opposizione puntuale capace e tutto il resto anche a dover confrontarsi senza aver paura con il governo che ovviamente l'obiettivo di tutti coloro o almeno dovrebbe essere tale l'obiettivo di tutti coloro che fanno politica grazie mille Emiliano Fossi grazie a voi grazie a voi per averci seguito da casa Telegram termina qui buona serata grazie a voi grazie a voi Grazie a tutti.